Meravigliosi, bellissimi, ho scoperto una serie di posti stupendi e di tanto in tanto ho cercato di spiegare un po' la fisica legata a questi posti. Siamo stati nelle miniere, abbiamo visto come lì ad esempio ci sono dei motori termici antichissimi che hanno servito le città durante il periodo della guerra mondiale. Siamo stati ieri dopo la Valle dei Templi a Selinunte, un posto magari meno conosciuto dalla Valle dei Templi ma con all'interno delle ricostruzioni di macchine che erano quelle che venivano utilizzate per costruire i templi stessi e quindi per tirare sulle rocce le cosiddette carrucole, quelle che la fisica chiama carrucole. E poi questo posto è stupendo, molto simile ovviamente alla terra mia se volete, io vengo dalla Puglia quindi insomma le vibes mi arrivano tutte dritte, bellissimo, bello, bello tutto, la gente soprattutto. Non solo da esplorare ma io ho consigliato questo durante le storie, cioè è importante, noi in Italia abbiamo tantissima storia, cultura, questa storia va fruita in maniera attenta. Quando si va in un posto in cui ci sono delle guide, delle persone preparate che possono spiegarti, farti vivere quel posto al meglio, bene, questo tipo di cose vanno sfruttate. Guida, fisica, audioguida, studiarsi su un canale YouTube, qual è la storia della Valle dei Templi? Fatelo perché è importante fruire della cultura in maniera consapevole. Questa è una cosa che auguro a tutti quanti in estate, non solo ai miei studenti ma anche a noi persone adulte, cioè di vivere i posti estivi non solo per rilassarsi ma per acculturarci perché è importante, abbiamo talmente tanto in Italia, qui in Sicilia in particolare, che non va sprecato, anzi va compreso, capito? Siamo molto felici di aver avuto modo di sponsorizzare questa prima edizione della Costa del Mito Golf Cup che si svolge al Verdura Golf Resort Roccoforte qui a Sciacca, che è una delle perle della Costa del Mito. È un'occasione per celebrare l'eccellenza di questo territorio che proprio in questi giorni ha visto un dato importantissimo, cioè è la destinazione italiana che è maggiormente cresciuta nella post-pandemia. Mentre la Sicilia genericamente è rimasta invariata rispetto al 2019 come presenze turistiche, invece la zona della Costa del Mito che noi promuoviamo ha avuto una crescita addirittura del 12,6%. Significa che le persone sono rimaste mediamente tre notti sul nostro territorio e questo ci gratifica in modo particolare perché è un dato che oltre a premiare economicamente, perché ogni permanenza si traduce in pernottamenti, cibo, souvenir, ingressi e quant'altro, ma è un dato che ha la caratteristica della solidità, cioè non sono soltanto arrivate più persone, ma quelle che sono arrivate si sono trattenute di più, per cui hanno visto le nostre attrattive, hanno scoperto anche i borghi, l'enogastronomia, la cultura, quindi non soltanto quel turismo mordi e fuggi che è il veleno dell'industria turistica. Siamo molto contenti, è un risultato che sicuramente può essere accreditato al distretto turistico e alla DMO, come si denomina adesso, e che vede la sua origine nella collaborazione che a suo tempo si iniziò, lasciatemelo dire, con Lillo Pisano, che a quel tempo era nel gabinetto dell'assessorato al turismo e che inizialmente subito ha creduto nel nostro progetto, creando i presupposti per questa sinergia che oggi vede questi risultati per il bene di tutto il territorio, per cui siamo molto orgogliosi, siamo molto contenti, oggi è un giorno di festa. Siamo qui al Verdura, una costa meravigliosa, i campi di golf bellissimi, c'è stata anche la presenza del grande fisico Vincenzo Schettini, ha più di un milione di followers, è importante qui la sua presenza, abbiamo effettuato anche le premiazioni dei vari atleti che si sono cimentati stamattina qui in questo torneo, un torneo che parla della costa del mito, la costa del mito sono 150 chilometri che siamo riusciti a coinvolgere da Salinunte a Gela, abbiamo coinvolto quindi l'intera provincia di Agrigento, ma anche le province di Trapani, Caltanissetta, questo per dimostrare che l'unione fa la forza, Agrigento ha raggiunto l'obiettivo, l'opportunità, mi correggo, di Agrigento Capitale della Vena della Cultura 2025, proprio perché si è dimostrata unita e apportato il patrimonio culturale dell'intera provincia a Roma, trasferendolo in un dossier dove si parla proprio di Agrigento Lampedusa e la provincia e poi si parla anche di accoglienza, di integrazione, di relazione tra i popoli tra le variettine del Mediterraneo, questa è stata la nostra forza, dobbiamo essere bravi, oltre ad aver raggiunto questa opportunità, riuscire a farci trovare già pronti, preparati per il 2025. Niente, volevo ringraziare Agrigento, abbiamo appena finito la gara del golf di Costa del Mito, bellissima esperienza, bellissima giornata, ci ha supportato anche il sole, è fantastico, con la presenza del sindaco e di tutti quanti. Che dire, una giornata strepitosa, sono contento, vi ringrazio di avervi qui, di averla avuti tutti quanti qui e spero di ripeterla presto. Grazie mille.